in collaborazione con centro cinofilo i pioppi antica cantina l'osteria delle donne paci auto concessionaria citroen antica cantina l'osteria delle donne si trova in pieno centro storico a due passi dal duomo è un'osteria dove troverete un ambiente intimo e accogliente gestita da sole donne con la filosofia del come fatto in casa l'antica cantina propone una cucina che utilizza materie prime freschissime e dispone di un'accurata selezione di piatti senza glutine vegetariani e vegani domani si svolgerà ad orvieto si svolgeranno ad orvieto due eventi importantissimi che coinvolgeranno tutta la città già in questi giorni la piazza del duomo è gremita di tecnici di operai perché si svolgerà la sfida fra orvieto e marostica con la partita a scacchi vedremo chi la vincerà e soprattutto poi alle 21 un evento una chicca un evento molto particolare sulle sagrato del duomo il miracolo dello sacro corporale di giuseppe baiocco interpretato da una grandissima paola gasman e da altri attori altrettanto importanti ne parliamo oggi con giuseppe baiocco che ringraziamo venuto a trovarci nei nostri studi come le è venuta in mente l'idea di scrivere questa questa opera che come vedete anche peraltro sintetizzata in questo libricino molto carino molto elegante però sì dunque essendo originario di orvieto io ero ragazzino e ricordo quando i fratelli tamberlani facevano queste rappresentazioni ovvero riproponevano un testo preesistente del medioevo che poi fu riscritto quasi completamente dai fratelli tamberlani che erano due famosi attori di cinema e di teatro negli anni 50 60 io ero molto piccolino devo dire però comunque mi ricordo che queste cose andavano in onda con insomma anche un certo seguito ad orvieto conseguentemente poi ho cominciato a fare teatro a livello professionale mettiamo su una compagnia e cominciamo a studiare un po questa questa tematica che ovviamente era molto sentita in precedenza poi consultandomi con maurizio panici che è un regista che ha già fatto un mio spettacolo il cambusiere qualche anno fa un regista molto quotato molto in gamba col quale io un ottimo feeling ci siamo consultati e ci siamo detti che tipo di spettacolo potremmo tirarne fuori non ci sembrava opportuno riproporre il dramma nudo e crudo come era stato scritto nel 1300 probabilmente da un sacerdote bolsenese anche perché la durata era molto limitata circa una trentina di minuti poi i personaggi erano tantissimi con due battute alcuni e i protagonisti invece non erano sviluppati sufficientemente allora abbiamo deciso abbiamo deciso di inserire nuovi personaggi e tagliarne altri ovvero è stato inserito un narratore che può servire moltissimo per rendere divulgativa l'opera e anche per spiegarla a coloro che non conoscevano il testo precedente è stata inserita la figura di Tommaso d'Aquino che era presente a Torvieto in quel periodo nel periodo del miracolo e che poi fu nominato da Papa Urbano IV per ufficiare la festa quindi scrisse delle cose e poi è stata inserita la figura della madre di Tommaso d'Aquino che poi per chi verrà lo spettacolo abbiamo anche un piccolo scoop sapevamo che la madre si era opposta a Tommaso per fargli fare il frate non voleva che lui facesse il frate poi invece ce l'ha fatta e è andata devo dire bene. Molto bene quindi diciamo questo connubio fra arte e fede perché è un po' un connubio fortissimo fra arte e fede avremo modo di apprezzarlo di vederlo appunto domani sul Sagrato del Duomo peraltro mi pare che sia la prima volta che viene rappresentata quest'opera. Sì si tratta del debutto assoluto. Si pensava anche con il regista Panici e anche con la Fondazione Cassa di Risparmio che poi ha finanziato l'operazione e con l'opera del Duomo che poteva essere un'opera unica ma poteva diventare un format ovvero potrebbe essere riproposta ogni anno esclusivamente qua perché poi è stata pensata per il Sagrato del Duomo dove in fondo è nata l'idea di rappresentarlo e quindi chi volesse vederlo ogni anno potrebbe tornare qua e vedersela magari anche a volte con il cambio di qualche attore protagonista per rendere ancora più accattivante e nuova ma comunque farlo diventare un qualcosa di rituale. Il legame fra Giuseppe Baiocco e il teatro oltre a essere un elemento storico della sua vita perché si è dedicato al teatro è stato recentemente anche agli onori della cronaca perché al teatro Mancinelli si è svolta un'opera scritta proprio da Baiocco che ricorda la vita di un personaggio illustre della nostra città. Esatto, si tratta della vita di Angelo Costanzi al quale è stata dedicata una via piuttosto importante il quale poveretto per professare le proprie idee è stato arrestato prima in Italia e poi è stato deportato a Mauthausen e dove poi è morto. Questo brano che si intitola Frammenti di un mosaicista morto dal freddo è un brano di una trilogia che ho scritto e si intitola Trilogia del mondo storto. Si tratta in fondo di... Passa abbastanza con quello che è il mondo oggi? Purtroppo direi di sì, anche se qui io ho cercato di fare una sorta di ricerca antroposociologica Costanzi è stato l'unico che non ho conosciuto mentre i personaggi che sono rappresentati negli altri due brani della trilogia sono personaggi che io ho conosciuto, ho anche filmato, uno di questi poveretto se n'è andato perché tutta gente che è stata nei campi di concentramento e quindi è molto anziana però gli altri tre sono ancora vivi e speriamo di sbrigarci e fare in tempo a fare anche i brani che li riguardano e portarli in scena. In questo caso ha collaborato con Maurizio Panici che è appunto il regista di quest'opera e Giuseppe Baiocco è anche scrittore, recentemente ha presentato il suo ultimo libro che è Frustalupi il piccolo gigante del centrocampo. Mario Frustalupi insomma è un personaggio conosciuto nel mondo dello sport, era il palleggiatore per antonomasia, per eccellenza, qui a Orvieto girava una storiella se non ricordo male che racconta che Mario Frustalupi fosse in grado di fare mille palleggi continuativamente, quindi non so se è vero o falso ma insomma è stato un grande personaggio. Ci vuole parlare di com'è nata invece questa idea di scrivere un libro su Frustalupi. Allora diciamo che da ragazzino anche io ho giocato al calcio e quindi spesso scavalcavamo il muro del campo sportivo che oggi è diventato un parcheggio, che era in via Roma e ovviamente tutti ci dicevano qui c'è cresciuto Mario Frustalupi, al che poi crescendo l'ho conosciuto, avevamo messo su un giornale qua in zona. Si allenava anche a Orvieto nella nazionale di calcio dell'esercito? Beh diciamo lui abitava sopra il campo sportivo, quindi lui a sua volta scavalcava, un muro era dentro il campo sportivo e siccome era straordinario da bambino, ci sono delle fotografie anche nel libro che lo testimoniano, era circondato da militari di grido che spesso giocavano in serie A e che venivano qua a fare il servizio militare e quindi era diventato una sorta di mascotte della nazionale militare che spesso si allenava qui al campo di via Roma. Ha avuto una buona scuola. Ha avuto una buona scuola, conseguentemente siccome l'allenatore di questa squadra nazionale militare era di Genova, lui fece una segnalazione a Genova alla Sampdoria, lo chiamarono a fare un provino, dopo dieci minuti lo fecero uscire perché videro che era straordinario e lo presero e da lì partì una grossa carriera. E da queste considerazioni, da questa conoscenza è nato questo libro che vi ricordo e vi consiglio di acquistare perché traccia un po' la storia della nostra città, perché è un personaggio che è vissuto nella nostra città e che quindi ci riporta nel passato. Frustalupi, il piccolo gigante del centro campo di Giuseppe Baiocco, contiene una prefazione di Marcello Lippi, un'introduzione di Roberto Conticelli, direttore della Nazione e nostro concittadino. E quindi eccolo qui il libro, vi consiglio di comprarlo, costa poco ma è una buona lettura. Io ringrazio Giuseppe Baiocco per essere stato con noi e ricordo a tutti voi domani l'appuntamento a Piazza del Duomo alle 18 per la partita a Scacchi per la sfida fra Marostica e Orvieto e naturalmente tiferemo tutti Orvieto, inutile dirlo, e poi per il dramma sacro questo appuntamento con questo lavoro particolarmente originale.